aria acqua e attrezzature in questo modulo analizzerete alcune particolarità dell'ambiente in cui andrete ad immergervi conoscerete alcune delle attrezzature indispensabili per l'immersione e scoprirete come si comporta la luce sotto il pelo dell'acqua aria e acqua il mondo in cui viviamo è una realtà fisica e tangibile tutto quello che vediamo e tocchiamo ha una consistenza reale e cioè formato da elementi che possono essere caratterizzati da una massa un volume e una forma i componenti base di un elemento sono delle particelle elementari chiamate molecole gli elementi formano tutto ciò che ci circonda a seconda delle loro proprietà possono essere solidi liquidi o gassosi i solidi come ad esempio un sasso sono caratterizzati da una massa una forma e un volume ben definiti i liquidi pur avendo una massa e un volume non hanno una forma propria assumono ogni volta quella del loro contenitore come ad esempio l'acqua in una bottiglia i gas addirittura hanno solo la massa cioè non possiedono né una forma né un volume proprio ma assumono quelli del loro contenitore analizziamo alcune differenze fra liquidi e gas prendiamo due contenitori e introduciamo in uno dell'acqua nell'altro aria adesso con uno stantuffo tentiamo di comprimerli scopriamo subito una delle particolari differenze l'aria è comprimibile mentre l'acqua praticamente non lo è entrambi sono formati da molecole ma nell'aria queste molecole sono in numero inferiore e molto più distanti fra loro quindi possono essere avvicinate facilmente la differenza fra molecole e loro numero dà luogo ad una proprietà definita densità in particolare l'acqua è circa 800 volte più densa dell'aria le pinne la differente densità implica alcune caratteristiche fondamentali una è il peso a parità di volume maggiore densità significa maggior peso oltre al peso la maggiore densità dell'acqua produce altri effetti immaginate di correre su un prato poi di addentrarvi in acqua più l'acqua diventa alta più l'avanzamento è faticoso fino ad arrivare al punto in cui per spostarvi siete costretti a nuotare cosa è successo per correre nell'aria dovete vincere la resistenza che questo gas oppone all'avanzamento in pratica dovete infilarvi fra le molecole d'aria che incontrate in acqua il numero di molecole da spostare decisamente maggiore questo significa che a parità di spostamento lo sforzo necessario è molto più grande in acqua che in aria ad un certo punto il sistema più efficace per spostarvi diventa il nuoto cioè scivolare fra le molecole di acqua presentando un profilo di penetrazione fra le molecole ridotto rispetto alla posizione eretta per secoli gli uomini hanno visitato il mondo acquatico camminando sul fondo come facevano i palombari solo poche decine di anni fa è nata un'invenzione fondamentale per la nostra attività le pinne le pinne in commercio sono di vario tipo e con caratteristiche diverse sono formate da due parti fondamentali la pala che è il compito di spostare l'acqua e la parte dove si infila il piede detta scarpetta che può essere di tipo chiuso o aperto le pinne con pala rigida producono una spinta maggiore ma richiedono una buona muscolatura delle gambe altrimenti potreste essere soggetti a crampi le pinne a scarpetta chiusa sono più efficienti e per questo motivo sono preferite dagli apneisti con le pinne a scarpetta aperta possono essere indossate delle apposite calzature definite calzari a suola rigida utili per camminare anche a terra per indossare più facilmente le pinne a scarpetta aperta sono state studiate differenti soluzioni che consentono anche una facile regolazione del cinghiolo fermapiede dovete utilizzare pinne con calzata comoda e adatta al piede cioè aderente ma che non stringa troppo la luce in acqua vediamo ora cosa sono i colori e cosa succede alla luce quando entra nell'acqua la terra è illuminata da una sorgente luminosa lontana il sole la luce solare che noi vediamo come luce bianca in realtà è composta dalla sovrapposizione di luci di diversi colori le possiamo vedere con l'effetto arcobaleno il fenomeno che appare quando la luce solare attraversa una cortina di gocce d'acqua se la luce solare è bianca perché vediamo oggetti di diversi colori quando la luce bianca incontra un oggetto essa viene in parte assorbita e in parte riflessa se l'oggetto riflette tutti i colori allo stesso modo ci apparirà bianco se l'oggetto invece assorbe la luce di tutti i colori e riflette solo quella di un tipo ci apparirà proprio del colore che non viene assorbito sott'acqua scoprirete che l'illuminazione naturale è diversa rispetto alla superficie c'è meno luce e i colori degli oggetti cambiano tutto tende ad assumere una tinta verde blu vediamo cosa succede se il sole è a picco sull'acqua come a mezzogiorno molta luce penetra sotto il pelo dell'acqua mentre in altri momenti della giornata la luce rimbalza in parte sulla superficie con un effetto che si chiama riflessione questo fenomeno è facilmente verificabile all'alba e al tramonto una parte di luce penetra comunque sotto il pelo dell'acqua ma la sua angolazione cambia il fenomeno è noto con il termine rifrazione una volta nell'acqua i raggi luminosi subiscono altri fenomeni la diffusione dovuta all'incontro dei raggi con le particelle elementari contenute nell'acqua e l'assorbimento causato dalla maggiore densità dell'acqua rispetto all'aria perché in acqua i colori si trasformano in verde blu e perché invece le foto subacquee che ammiriamo sulle riviste presentano colori sgargianti il fenomeno di assorbimento non è uguale per tutti i colori che compongono lo spettro luminoso quelli più caldi come il rosso l'arancio il giallo sono assorbiti più rapidamente l'assorbimento dell'acqua è infatti selettivo oltre i 5 10 metri gli unici colori che riescono a penetrare sono quelli verde blu ecco perché tutto assume quella tinta ma se portiamo sott'acqua una sorgente di luce artificiale come fanno i fotografi subacquei ecco per incanto riemergere i veri colori per questo motivo tutti i subacquei esperti portano con loro una lampada anche nelle immersioni diurne ovviamente si tratta di una lampada appositamente costruita per funzionare sott'acqua in questo modo potrete ammirare spettacoli cromatici che solo l'ambiente subacqueo vi può regalare la maschera bene ora sapete come ci si può spostare meglio in acqua ma se tentate di guardare sotto la superficie vedrete un mondo sfocato nonstante tutti i vostri sforzi questo accade perché il nostro occhio è conformato per funzionare correttamente in aria e non in acqua i record man di apnea correggono questa situazione mettendo delle lenti a contatto appositamente studiate e realizzate ma la cosa oltre che molto costosa è innanzitutto scomoda il sistema più semplice per vedere chiaramente è quello di riportare l'occhio alle condizioni per cui è conformato interponendo cioè un cuscinetto d'aria fra occhio e acqua per questo motivo è nata la maschera l'occhio tornato così in aria ripristina la sua normale funzionalità visiva una maschera è formata in genere da uno o più vetri un telaio rigido e un facciale morbido tutti questi elementi devono essere ben combinati per raggiungere il compromesso ottimale fra un ampio campo visivo e un ridotto volume di aria interno una maschera con un volume interno ridotto si compensa più facilmente ma una maschera troppo piccola potrebbe limitare molto il campo visivo per noi subacquei è essenziale che nella maschera sia incluso il naso perché dobbiamo compensarne come impareremo in seguito il cuscinetto di aria contenuto le maschere più vecchie non sono adatte al nostro scopo perché con esse non è possibile chiudere il naso dall'esterno per compensare il vetro della maschera deve essere del tipo temprato che si rompe senza produrre larghe schegge pericolose per gli occhi prima di acquistare una maschera è importante provarne più di una per scegliere il modello più idoneo alla vostra conformazione facciale facendovi aiutare appoggiate la maschera sul viso e verificate che si adatti perfettamente ai vostri lineamenti adesso inspirate con il naso in modo da produrre un leggero effetto ventosa la maschera deve restare in posizione non cadere solo alla fine posizionate il cinghiolo di sicurezza per essere efficace il cinghiolo deve essere sdoppiato sulla nuca in modo da avere un'ottima aderenza al capo è importante verificare che sia possibile regolare facilmente il cinghiolo affinché la regolazione sia realmente efficace dovete riuscire a stringere o allentare il cinghiolo utilizzando una sola mano sott'acqua avrete modo di verificare uno strano fenomeno tutto vi sembrerà più grande e più vicino della realtà scopriamo questo divertente concetto di dimensioni reali e apparenti come ricordate i raggi luminosi passando dall'aria all'acqua subiscono una deviazione rifrazione lo stesso fenomeno avviene col percorso inverso il nostro cervello è abituato a interpretare le sensazioni visive in aria per cui legge la direzione dei raggi luminosi come se avessero viaggiato solo in aria cioè in linea retta di conseguenza crediamo che l'oggetto sia più grande e vicino ecco spiegata la differenza tra dimensioni reali e apparenti se il vetro della maschera si appanna avete perso la chiarezza della visione per prevenire questa eventualità dovete sfregare saltuariamente il lato interno e quello esterno del vetro con dentifricio pasta lavamani o detersivi appositi inoltre prima di ogni immersione è bene espandere sul lato interno del vetro dei tensio attivi come quelli presenti nel sapone liquido o nello shampoo nei liquidi appositi o più semplicemente negli enzimi della saliva è importante infine lasciare dell'acqua nella maschera fino al momento di indossarla l'aeratore un altro prezioso componente dell'equipaggiamento del subacqueo è l'aeratore che in superficie permette di respirare anche quando si guarda il fondo in pratica è formato da un tubo e da un boccaglio di diverse forme e misure può presentare un elemento molto flessibile per adattarsi meglio a tutte le conformazioni del viso senza affaticare i muscoli delle mascelle talvolta questo elemento flessibile è realizzato con un tubo corrugato in questo caso verificate che l'interno sia comunque liscio al fine di evitare il ristagno di acqua un apposito dispositivo deve consentire il fissaggio al cinghiolo della maschera per svuotare l'aeratore una volta emersi basta soffiare con decisione e l'aria spingerà l'acqua all'esterno del tubo esistono anche modelli con valvola di scarico unidirezionale questo dispositivo riduce lo sforzo per svuotare l'aeratore dall'acqua in quanto non si deve più sollevare tutta la colonna d'acqua sovrastante gli aeratori vanno fissati sul lato sinistro della maschera perché dalla parte destra arriverà l'erogatore controllate che la posizione consenta un comodo utilizzo senza affaticamento delle mascelle i buoni aeratori hanno tubi di diametro e lunghezza adeguati e curve limitate e di ampio raggio il diametro del tubo dovrebbe essere vicino ai due centimetri un valore molto inferiore renderebbe più difficile la respirazione uno molto superiore complicherebbe l'operazione di svuotamento la punta emersa dell'aeratore è in genere di un colore ben visibile per venire facilmente individuati sul pelo dell'acqua le attrezzature devono essere risciacquate con acqua dolce dopo ogni immersione anche se svolta in piscina e fate asciugare all'ombra in luogo ventilato grazie a queste semplici attrezzature siete già in grado di iniziare il vostro viaggio nel meraviglioso mondo subacqueo nel prossimo modulo conoscerete la pressione e le sue implicazioni nella subacquea scoprirete la compensazione e i fastidi che questa manovra risolve a presto grazie a tutti grazie a tutti